Inaugurata la trentesima edizione della Biennale Internazionale dell'Umorismo nell'Arte di Tolentino sul tema L'Odio. Il concorso, con 620 lavori pervenuti da 239 autori in rappresentanza di 46 nazioni, confirma il suo ampio respiro internazionale. Sono 52 le opere selezionate ed esposte fino al 26 gennaio a Palazzo San Gallo nella sede del Museo dell'Umorismo. La trentesima Biennale dell'Umorismo già dalla celebrazione dice quanto questo concorso sia importante, storico, blasonato, forse il più longevo che è la nostra regione. Sono 60 anni che l'Umorismo ha appuntamento fisso qui a Tolentino e questi appuntamenti hanno realizzato il magnifico museo che ci ospita e non poteva essersi una celebrazione più importante che quella di frequentare nuovi linguaggi, nuovi percorsi perché l'Umorismo in questi 60 anni è cambiato come è cambiata la società. Da qui la scelta di un tema dominante, un tema che è trasversale, che in qualche maniera è protagonista di ogni dibattito, di ogni discussione, di ogni appuntamento politico. L'odio, l'odio degli odiatori, gli odiatori degli odiatori e su temi come questi l'Umorismo deve per forza impegnarsi e piegarsi perché è l'unica ricetta, l'unica medicina alla sprezza della vita contemporanea. Un successo enorme perché questa trentesima edizione non sia annoverata solo a livello numerico, a livello di lasso temporale da quando il grande sindaco Mari inventò e creò questa bellissima manifestazione dando tra l'altro a Tolentino l'etichetta forte e indelebile di città dell'Umorismo e della caricatura. Quindi sostanzialmente questa storia infinita ci ha accompagnato per quasi 60 anni e oggi, perché è una biennale, e oggi, ancora oggi, la trentesima edizione, sempre di più abbiamo potuto constatare con mano quanto interesse mondiale ci sia verso questa manifestazione, migliaia di opere che provengono da tutto il mondo. Vincitore della trentesima edizione della biennale con l'opera Mi Odio è il re canatese Abele Malpiedi, premio Luigi Mari sul ritratto caricaturale allo spagnolo Omar Alberto Figueras Tursios. In questa opera artistica che è interattiva c'è un pannello, un photobooth così chiamato che non è nient'altro che una cornice Instagram con cui potersi fare dei selfie. In realtà c'è bisogno dell'altro per far fuori uscire una buona fotografia. E' proprio grazie all'altro che possiamo riconorcerci. E' anche un gioco di specchi. Ha un gesto forte, coraggioso, emmedesimarsi nell'altro, in questo caso nel male, nella persona di Hitler. E questo immergerci nell'altro, rispecchiarsi nell'altro, scaturisce nel perdono. E il perdono è una sorta, e succede all'odio, è una conseguenza di questo sentimento. Un po' come la luce senza lomba.